Buongiorno a tutti, qui è sempre Ardino Schianato da Yardforex.com e oggi vi porto un altro video dedicato a quelle famose interviste del famoso libro che sto leggendo ce ne saranno molti altri di video perché più di settimana più vado avanti a leggere questo libro e quindi queste interviste più trovo delle bellissime risposte di questi trader di successo che mi va di condividere con voi e discutere con voi in questi video del sabato quindi permettetemi in questo periodo di fare questi video mi piace davvero portarvi queste testimonianze che non sono solo mie, esperienziali mie ma sono anche assolutamente di altri trader che hanno approcci tecnici magari diversi dal mio ma devo dire che su molte cose sono in totale accordo e armonia prima di iniziare a leggervi questa ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace poi sul video di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e di attivare la campanellina che trovate nella home del canale così da rimanere sempre informati riguardo le nostre live, i nostri video va bene, allora in questo caso vi condivido già sì, così vi condivido già, guardate un po' di chi parliamo oggi parliamo di Marty Schwartz trader che penso che alcuni avranno già conosciuto, hanno già sentito alcuni altri no, ma così bene bene, ne parliamo oggi Marty Schwartz era uno stock trader principalmente vi prendo una frase qui tanto per farvi capire chi era Schwartz ha speso praticamente una decade a perdere soldi con il suo trading prima di trovare praticamente la sua strada e diventare un trader di successo alla fine cambiò la sua metodologia di trading nel processo di trasformazione di se stesso da un trader ripetutamente perdente diciamo a un fenomenale trader vincente in modo consistente, in modo costante diciamo quindi ecco, tanto per farvi capire no, non è che siamo i soli ad avere difficoltà lo dico soprattutto per chi ascolta ed è all'inizio questa frase cioè non pensiamo di essere gli unici ad avere difficoltà a guadagnare ad avere i primi anni di vita del trading ci sembra tutto difficile comunque di non riuscire ad ottenere risultati perché ci sono passati molti, tutti penso coloro che comunque fanno un certo tipo di trading ormai sono diventati dei trader professionisti sono passati per dei momenti in cui hanno dovuto capire e a volte questo è un processo che passa anche per delle perdite come nell'esempio per esempio di Marty Schwarz allora vado a pagina 128 in questo caso ho trovato molto ravvicinate due risposte a due domande che credo possano riassumere bene tutta l'intervista di Marty Schwarz perché poi ovviamente in alcuni punti si parla più di alcune situazioni eccetera ma io qui ho preso la domanda questa qui e questa qui che trovate qua perché rappresentano due punti a mio avviso importanti da ancora fare nostri e che sicuramente rivederli qui insieme se poi difetto fatti nostri possono portare comunque a credo migliorare la nostra operatività ovviamente quando dico fatti nostri perché ovviamente oggi io leggo una cosa però poi bisogna costruirla questa cosa su entrambe le risposte diciamo ci sono già passato in altri video di altri trader di questo libro quindi trader diversi, differenti, che facevano mercati completamente altri e avevano magari un approccio tecnico differente ma guardate come si ritorna sempre a alcune cose che sono fondamentali una riguarda di più le perdite e una riguarda di più l'aspetto fondamentale tecnico allora ve lo leggo io ve lo leggo in italiano perché ovviamente questo libro è in inglese e quindi ve lo leggo in italiano allora quando sei riuscito a passare da trader che perde a trader vincente vi ho letto prima che per dieci anni praticamente Marty Schwarz non riusciva a guadagnare ok? non ha mollato ma non riusciva a guadagnare quindi quando è successo? questa è molto interessante no? allora lui dice quando sono stato capace di separare i bisogni del mio ego dal fare soldi quando sono stato capace di accettare di aver sbagliato di essere nel torto diciamo di aver sbagliato la posizione no? di aver sbagliato prima ammettevo di aver sbagliato ammettere di aver sbagliato era più mi creava più arrabbiatura mi faceva arrabbiare di più che il perdere soldi quindi era più l'ego no? che dice all'inizio ero abituato a cercare di fare accadere le cose ero abituato a cercare di fare accadere le cose me le immaginavo quindi non poteva essere sbagliato no? questa era la sua mentalità se lo immaginava quindi non poteva essere sbagliato risultare che questo trader non andasse come lui volesse quando sono diventato un vincitore quindi un trader che guadagnava ho detto me lo immagino me lo immaginavo ma se sono me lo immagino ma se sono sbagliato me lo figuro ma se ho sbagliato se sto sbagliando se la posizione non è giusta esco fuori lo dice anche abbastanza pesantemente I'm getting the hell out quindi esco subito fuori perché voglio preservare i miei soldi e andare sul prossimo trade vivere la filosofia che i miei trading guadagno sono sempre davanti a me perciò non è così dolorosa il così doloroso prendere una perdita se faccio un errore se faccio un errore che c'è questa è un po' la cosa quindi ecco nella domanda prima di passare all'altra alla domanda di quando tu hai cambiato i tuoi risultati cioè sei diventato da un trader perdente a un trader vincente lui non è andato a parlare di tecniche perché sì perché sono andato a utilizzare questa tecnica no e sono diventato il trader vincente no perché tante volte noi noi io parlo sempre con il plurale maestatis ma in realtà è è un diciamo lo dico per chi ascolta qui ovviamente non non vado a non mi metto dentro perché ormai io queste cose le ho già fatte mie però quello che voglio dirvi è perché cosa perché dico questo perché tante volte chi magari inizia a avere un periodo negativo cosa fa va in cerca della tecnica infallibile va o anche se non è infallibile va in cerca di questo di quello oggi tra l'altro rispetto agli anni 80 eh di Marty Schwartz è è una giungla perché su YouTube è eh completamente ripieno di pseudo trader che vi mostrano le loro capacità con le loro tecniche incredibili e quindi ancora di più uno dice ma ma questo qui sta facendo no chissà che cosa questo pure io sono l'unico che non riesce a guadagnare lui non ha risposto sì ho cambiato la mia il mio guadagno da quando ho iniziato a utilizzare una certa tecnica che magari chissà che cosa lui è andato direttamente e quella successiva confermerà invece l'aspetto un po' più tecnico diciamo un po' più generale sempre del di quando in effetti ha iniziato a guadagnare però qui dove è andato è andato sulla gestione delle perdite non è andato sulla gestione dei sulla gestione sulla tecnica proprio sulla tecnica pura cioè sulla strategia no perché noi qua la strategia strategia un corno è la gestione delle perdite ok perché poi a fare i guadagni diciamo voglio dire siamo tutti bravi tra virgolette ok ma in questo caso lui ha detto che quando è iniziato a separare il suo ego dal fare i soldi quando è stato in grado no di accettare di aver sbagliato è stato lì che è riuscito a guadagnare e quando ha sbagliato quando lo capisce quando ormai ha visto che la situazione non può più reggere si esce e si va a osservare il mercato per il prossimo trade bellissimo alla fine che dice vivendo la filosofia che le mie posizioni in guadagno sono sempre di fronte a me cioè i possibili winners come li chiamano come li chiama lui cioè le possibili opportunità buone sono sempre di fronte a noi quindi non è che se oggi chiudo una due tre posizioni in perdita perché ho capito che non ci siamo più ormai cioè se aveva un certo tipo di struttura la struttura ormai è venuta a fallire si esce perché tanto poi tutto quanto è lì davanti a noi e con la filosofia appunto di questo tipo non è poi painful quindi non è doloroso prendersi una perdita e poi il vi riporto il solito libro eccolo qua c'ho il segno per quello c'ho il segno lì che Jack Schwager ve lo ricordo Market Wizards perché prima non ve l'ho citato ma è questo il libro per chi vede questo per la prima volta il libro è questo Market Wizards Interviews with Top Traders Jack Schwager Jack Schwager Did you make dice poi nella seconda domanda che volevo farvi per farvi capire le due cose che come l'impianto che lui ha dato da un punto di vista proprio di quando le cose sono cambiate prima è questa cioè quando ha capito che il capire di di aver sbagliato e di quindi fare l'azione di chiudere magari una posizione o più posizioni in perdita e guardare avanti è assolutamente fondamentale ma io stesso negli ultimi anni ci ho lavorato molto su questa cosa e vedo assolutamente migliorata la mia operatività qui dice hai fatto una completa transizione un completo spostamento da l'analisi fondamentale analisi tecnica domanda di schegger assolutly dice lui quindi assolutamente rido spesso rido alla gente che dice non ho mai visto un trader un tecnico un trader tecnico ricco un trader che usa l'analisi tecnica ricco lui ride quando sente questo I love that dice lo amo la amo quando sento questa cosa è così una risposta così arrogante e con non senso così arrogante e così con non senso io ho usato l'analisi fondamentale per nove anni ricordiamoci all'inizio che dicevo che per dieci anni non riusciva a guadagnare ho usato i fondamentali per nove anni e sono diventato ricco da trader tecnico e qui concludo perché non c'è tanto da dire noi che facciamo la price action diciamo che la certezza l'unica certezza è il prezzo e nel prezzo c'è assorbito tutto quindi io con questa frase ovviamente poi chi mi conosce lo sa ma io ancora di più vi confermo che anche per me è questo quindi nient'altro che i grafici ad alto time frame ci stanno dicendo realmente quelle che sono le varie bilanciature tra domande e offerte i vari trend dove vanno i soldi realmente ce lo dicono i grafici ce lo dice ogni giorno il mercato attraverso le sue fluttuazioni le notizie fondamentali i dati importanti sicuramente fanno muovere il mercato ma non lo fanno muovere perché esce il dato perché magari quel movimento c'è già stato perché il mercato ha già apprezzato quel dato perché il mercato si muove praticamente sempre per aspettative tant'è che c'è quel detto buy the rumor sell the news che è molto molto chiaro e soprattutto va proprio in sintonia con chi usa praticamente solo la price action almeno per quanto mi riguarda quindi grandissimo perché mi mi ha fatto un po' sorridere quando ho letto questa frase tra l'altro anche molto la tagliata in breve hai fatto una completa transizione da fondamentale ad analisi fondamentale ad analisi tecnica lui in pochissime parole oltre a dire assolutamente e anche a dire che ride quando sente quelle cose tipo che non ha mai sentito un trader ricco tecnico un trader tecnico ricco dicendo che anche gli sembra molto arrogante e di non senso la cosa poi che spezza tutto è ho utilizzato l'analisi fondamentale per ben nove anni e sono diventato ricco da trader tecnico qui proprio spezza le gambe bellissimo non potevo non farci un video e quindi benissimo anche oggi aspettate che mi allargo l'immaginina ok anche oggi direi che è andata spero vi sia piaciuto questo questo video quindi riflettete sull'essere sulla gestione delle perdite sull'avere magari sbagliato un certo tipo posizione perché non il mercato ha sempre ragione non noi e sul fattore anche se questo era un po' più simpatico analisi tecnica o comunque analisi grafica analisi fondamentale bene io a questo punto vi saluto vi auguro un buon sabato una buona domenica e noi ci vediamo lunedì con la 3D Room ciao a tutti